E' un progetto che uccide l'ambiente. Nell'incontro di ieri con la Regione Marche, serie fanesi hanno rimarcato la loro contrarietà all'installazione del parco fotovoltaico al confine tra il Comune di Fano e quello di Cartoceto. Alla riunione erano presenti anche il Sindaco Errico Rossi, il Genio Civile, la Soprintendenza e i tecnici della provincia di Pesero Urbino. Abbiamo espresso il nostro dissenso, hanno spiegato, specificando come la nostra comunità meriti rispetto. Questo impianto renderebbe più impermeabile il terreno, facendo aumentare la probabilità di dilavamento della superficie in una zona molto predisposta alle frane. Sere fanesi hanno poi annunciato di voler continuare a battersi per scongiurare questo mega impianto agrivoltaico. Io ho chiesto un incontro alla ditta che vuole fare questo intervento e anche alle proprietà, perché vengo a sapere che erano mesi, c'era già da tempo che stavano dialogando e non esiste in un territorio. Quando ci sono interventi è normale che ci sia un confronto con l'amministrazione locale. È vero che il grande dell'impianto ricade sul Comune di Cartocetto, ma ha effetti anche sulla nostra realtà. Questo avviene nella stragrande maggioranza dei casi, dove prima si viene a parlare con l'amministrazione. Questo non è avvenuto. Ho chiesto, e questo non va bene, perché queste cose non si possono prendere dalla stampa o dalle circolari che arrivano, perché è in atto un procedimento partito dal Ministero. Poi se altri lo sapevano, al momento non lo so, ma sarebbe grave. Quindi ho chiesto un incontro, li ho convocati per uno di dieci, spero che si presentino. Non dubito sui locali, ma ovviamente la ditta che ha sede a Palermo e ha finanziamenti stranieri europei. Quindi voglio questo incontro, un confronto forte, riconfermando la nostra posizione di assoluta contrarietà. Venerdì 30 settembre, ha poi ricordato Seri, abbiamo già inviato le nostre osservazioni alla Regione e tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione li adotteremo per contrastare il progetto in cui, ha concluso il Sindaco, c'è un'evidente speculazione economica. Questo non significa che noi siamo contrari, lo voglio rimarcare, all'installazione di impianti per produrre energia alternativa. Abbiamo tutti bisogno, le alimentiamo anche noi, vogliamo farle anche direttamente, però vanno fatte con intelligenza, vanno fatte in siti idoni e non ci possono essere delle realtà che si accollano tutto il peso rispetto ad altri. Ci deve essere una solidarietà anche questa, anche territoriale, non soltanto all'interno della stessa città, ma anche all'interno di un territorio più ampio.